Buongiorno, siamo in collegamento in diretta da Sortino, accanto a me c'è il sindaco Vincenzo Parlato, reduce anche lui come molti colleghi siciliani dall'esperienza del lanci nazionale dove è stato eletto alla guida dell'Associazione Comuni Italiani il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi quindi la settimana scorsa Vincenzo Parlato è stato a Torino insieme a tantissimi altri sindaci e allora chiediamo a lui com'è andata questa esperienza anche perché il sindaco mi diceva che c'è stata credo per la prima volta una sorta di anci off, di cosa si tratta? Sì, intanto io ero tra i 26 delegati siciliani che partecipavano all'elezione del nuovo presidente per cui grande soddisfazione per aver eletto un sindaco del sud alla guida dell'Assemblea più importante per quanto riguarda i comuni italiani a livello nazionale siamo fiduciosi che Gaetano Manfredi possa sicuramente perorare le nostre cause perché la Sicilia come ben sapete ha sempre delle peculiarità e delle particolarità che la distinguono dal resto delle regioni italiane poi quest'anno è stato particolarmente interessante perché il Comune di Torino intanto è stato eccezionale nella organizzazione complessiva dell'evento ho tenuto conto che all'interno dell'ingotto c'erano non meno di 10.000 persone per giorno dal 20 al 22 la durata dell'Assemblea ma l'aspetto più innovativo è stato l'Anci-Off ovvero la possibilità per i comuni di promuovere il proprio territorio tra Piazza San Carlo e la Via Roma sono vie centralissime di Torino e Sortino assieme ad altri 4 comuni siciliani aveva il proprio stand informativo dove abbiamo potuto dare informazioni al pubblico che normalmente si trovava a passeggiare nelle ore pomeridiane e a promuovere i nostri prodotti tipici locali oltre che le nostre bellezze naturalistiche e architettoniche all'interno di questa manifestazione poi noi ci siamo inventati Sortino incontra Torino ovvero il sabato a pranzo abbiamo invitato tutti i sortinesi che studiano a Torino per un momento di convivialità per stare tutti insieme con l'amministrazione e devo dire che tra i ragazzi che lavorano e che studiano a Torino c'è una comunità di circa 60-70 persone per cui un appuntamento importante che ha fatto vedere la vicinanza dell'amministrazione anche a questi ragazzi che studiano e lavorano fuori logicamente questo purtroppo è la nostra piaga i nostri ragazzi che vanno a formarsi fuori ma nella speranza che possano ritornare poi al paese di origine e portare la conoscenza e il know-how che hanno acquisito fuori che sicuramente è una cosa importante che arricchisce la nostra comunità E a proposito di questo Sindaco, apriamo e chiudiamo una parentesi c'è la possibilità per i ragazzi o comunque per tutti i residenti al nord provenienti dalla Sicilia di ritornare per le feste natalizie con un treno messo a disposizione della regione con un prezzo davvero basso Sì, questa è una bella iniziativa affiancata anche al fatto degli sconti che vengono applicati ai residenti siciliani che comprano il biglietto aereo per le destinazioni del nord per ritornare ai paesi di origine ed è un momento poi in cui le famiglie si riuniscono e il Natale ha questa funzione e noi ci stiamo preparando per organizzare un Natale sobrio senza grandi appuntamenti di cartellone ma sicuramente penseremo ai bambini che sono sempre nel nostro cuore perciò il Natale sarà l'insegna di giochi Babbo Natale, Zampognari e tutto quello che rende poi le festività natalizie un momento per stare con le famiglie Bene, ringraziamo allora il Sindaco Prima della chiusura Sindaco, allora gli appuntamenti più importanti se già ce li hai in calendario del Natale Ancora siamo work in progress perché proprio stasera abbiamo un consiglio comunale dove faremo l'ultima variazione del bilancio dell'anno proprio per avere le risorse e poter redigere il programma che poi sarà ricco di appuntamenti perché ora abbiamo anche la Prologo che ci supporta in queste attività per cui già ha predisposto un programma che sarà integrato con le attività dell'amministrazione comunale per cui alla fine uscirà comunque un programma di tutto il rispetto che ci accompagnerà dall'Immacolata fino all'Epifania Bene, ringraziamo il Sindaco di Sortino Vincenzo Parlato Grazie Linea allo studio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.